grazie 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 ciao 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 come si bene sta in giro grazie 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 come è? a posto si a posto stai in giro? te ne fai qui tu? bene bene sono Moamele e piacere stai allenando? si si come sempre tu è un grande giocatore e anche tu no difensore si che squadra? Taloro però leva i pantaloni e Michele come sembra? Michele si si che cazzo fa? no punto si e io ciao Bobo ve ne fregate voi vieni che rallentatemi se li fa male ciao ciao alla prossima ci sentiamo dopo ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fuori di strada. Grazie a tutti. Grazie a tutti.